La settimana di scioperi continua. Dopo lo stop dei buoni pasto da parte degli esercenti di supermercati e ristoranti, sono previsti forti disagi per il prossimo 17 giugno. A Milano, infatti, è stato indetto uno sciopero generale dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private, da parte delle sigle sindacali Alcobas, KP, VLMO, SGC, Slaipro, Colbasse e SOA. Ma rischio di maggior disagio riguarda l'area del trasporto pubblico. La società del trasporto periobiano regionale Trenordi, in particolare, ha annunciato che lo sciopero in questione partirà dalle ore 21 di giovedì 16 giugno alle ore 21 di venerdì 17. Un sistema di alta tecnologia per eseguire procedure chirurgiche complesse. La Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, presieduta dal professor Emanuele Francesco Maria Emanuele, ha donato all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma un microscopio operatorio. È una donazione fondamentale per l'ospedale e la si deve alla sensibilità del nostro presidente, il professor Emanuele, che da sempre lavora per fare in modo che presso le strutture ospedaliere private non profit e pubbliche della regione Lazio ci siano tecnologie all'avanguardia in ambito medico, quindi parliamo nella diagnostica, nella chirurgia, ma anche in ambito biomedico, laddove queste tecnologie sono al servizio della ricerca scientifica. All'inaugurazione del nuovo microscopio operatorio hanno partecipato l'assessore alla salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, e il direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena, Gennaro Ciliberto. Ci permette di fare il salto di qualità ulteriore ad interventi chirurgici particolarmente difficili, in cui noi possiamo abbinare un forte avanzamento tecnologico con la possibilità di combattere sempre di più la massa tumorale risparmiando il tessuto normale adiacente. Se non avessimo questo tipo di strumentazione non sarebbe possibile fare interventi di chirurgia di estrema precisione. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha aperto il bando per ottenere un rimborso che potrebbe agevolare le famiglie italiane, composte da lavoratori dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione. Si tratta del bonus Centri Estivi 2022, che offre la possibilità di ricevere un massimo di 100 euro a settimana per poter portare i propri figli, dieta media compresa fra i 3 e i 14 anni, ai centri estivi diurni. La scadenza per l'invio della domanda all'Inps è il 20 giugno e il rimborso verrà con risposta alle famiglie entro il 31 dicembre 2022. I pazienti che hanno ricevuto anticorpi monoclonali contro il Covid-19 sono 63.090. La maggior parte di essi le ha assunti come terapia anti-Covid, mentre 1.236 persone le hanno ricevuti come profilassi preventiva, poiché soggetti molto esposti a rischio di malattia grave. Lo rende noto l'Agenzia Italiana del Farmaco all'interno del report riguardante le prescrizioni dei monoclonali in Italia, che è stato aggiornato l'8 giugno 2022. Le regioni che hanno prescritto più terapie monoclonali nella penisola sono Veneto, Lazio, Toscana, Campania e Lombardia.